ciao a tutti bentornati sul canale youtube di easy arp allora oggi parliamo di armonica amplificazione dell'armonica ma soprattutto di cavi e connessioni allora ho deciso di fare questo video così per riassumere un po l'argomento visto che in tanti magari a spezzoni mi chiedete più o meno le stesse informazioni e così cerco di fare un video che più o meno riassume un po tutti i casi perché allora quando ci addentriamo nel mondo dell'amplificazione dell'armonica che utilizziamo mixer un impianto un amplificatore ci sono diverse possibilità ma soprattutto abbiamo a che fare con diversi tipi di microfoni diversi tipi di cavi ingressi che non jack insomma è spesso si crea un po di confusione allora cercherò di non entrare nel super tecnico dio in un precedente video parlato di impedenza adesso non entro proprio nel merito però c'è questa questione dei cavi delle connessioni e dell'impedenza affrontiamo insomma giusto quanto serve allora partiamo dal presupposto che io posso amplificare l'armonica in due maniere tendenzialmente un microfono tipo questo tipo le sm58 della shure un classico microfono da voce che ha questo tipo di connettore ok questo è un connettore che non quindi io avrò bisogno di un cavo tipo questo che non che non ok che non c'è una parte questo tipo di connessione ok dall'altra parte questo tipo di connessione infatti da questa parte io mi collego ok quindi il mio microfono è pronto a collegarsi cavo che non che non perché cavo che non che non allora qui sfioriamo il concetto di impedenza questo tipo di microfono è un microfono a bassa impedenza e viaggia insomma si apre il tipo di connettore insomma per come progettato il microfono il tipo di segnale viaggia su questo tipo di cavo ok questo è il suo cavo che non che e poi magari vediamo come adattare l'uscita a un diverso tipo di connessione comunque microfono a bassa impedenza cavo che non che non l'altra possibilità tipica invece per esempio il classico bullet ci sono tanti bullet tendenzialmente i bullet poi faremo un caso specifico hanno un segnale ad alta impedenza e viaggiano con un altro tipo di connessione ok cavo jack jack ok jack è questo qua jack mono jack mono e del tipo grande se vi faccio vedere anche un altro tipo di jack però tendenzialmente questo tipo di microfono a il connettore jack io prendo un cavo jack jack mono e voilà e quindi dall'altra parte avrò l'uscita jack quindi microfono ad alta impedenza cavo jack jack allora torniamo al nostro microfono da voce da strumento bassa impedenza cavo che non che non allora dove lo collego normalmente normalmente lo collego a un impianto quindi mixer che poi manda alle casse e mixer hanno questi ingressi in questo è un ingresso combo che va bene sia per un cavo un connettore che non che un connettore jack e comunque riconosce il tipo di segnale segnale mike microfonico se io appunto collego il un canon lui riconosce che il segnale e microfonico quindi a bassa impedenza oppure posso collegare un jack posso collegare un jack che in questo caso lui riconosce un altro tipo di segnale che in questo caso è un segnale line magari facciamo un attimo una differenza tra segnale line e segnale instrument che viaggiano entrambi su un cavo jack comunque se io uso un microfono normale cioè da tipo questo cavo canon canon mi collego al mixer ingresso microfonico perfetto a quel punto dovrò soltanto regolare il gain quindi il livello di guadagno del segnale ma soprattutto il volume di uscita e quindi terrò il volume di uscita quanto basta regolarò in funzione del proprio della potenza del segnale del microfono il livello di game ed eventualmente equalizzerò il suono o aggiungerò magari degli effetti d'ambiente tipo reverbero però questo è il caso tipico di collegamento di un microfono tipo questo cavo che non che non è dentro lì e questo va bene sia per la voce che per l'armonica chiaramente avrò un suono definito e pulito non distorto ma se io volessi collegare questo tipo di microfono con segnale pulito quindi non distorto a un amplificatore come dovrei fare beh la soluzione corretta è praticamente di utilizzare un trasformatore di impedenza tipo questo non ho già parlato in un precedente video ok questo è un trasformatore di impedenza passivo quindi non ha bisogno di alimentazione e svolge due compiti uno è quello di modificare il connettore quindi da cannon ok da l'uscita del cavo da cannon a jack mono ma soprattutto modifica trasforma l'impedenza da bassa ad alta questo perché perché gli amplificatori tendenzialmente amplificatori per chitarra ok sono progettati per ricevere un segnale da una chitarra quindi sì il connettore jack jack ma non un segnale a bassa impedenza bensì un segnale ad alta impedenza quindi io ho bisogno di questo trasformatore la cosa che non devo fare è utilizzare per esempio questo tipo di cavo questo tipo di cavo a da una parte appunto il che non è dall'altra parte il jack mono se io prendo questo cavo e lo uso per questo microfono e mi collega un amplificatore sì la connessione è corretta ma il tipo di segnale no perché io sto entrando dentro l'amplificatore con un segnale a bassa impedenza mentre il l'amplificatore vuole ricevere un segnale ad alta impedenza quindi si sono uscirà fuori ma molto povero molto scarno insomma comunque non funziona così quindi non dovrò usare questo tipo di cavo ok non mi devo preoccupare soltanto delle connessioni ma dovrò usare un cavo canon canon più il trasformatore da bassa ad alta impedenza tipo questo in questo modo io mi posso collegare sia un amplificatore ma anche ad altre a degli effetti per esempio se io ho un pedalino un effetto un preamplificatore insomma che vuole ricevere un segnale instrument ok appunto un segnale ad alta impedenza tipo quella chitarra o come abbiamo appena realizzato allora io posso entrare anche in un in un effetto che appunto l'ingresso jack ok quindi potrò entrare qua ingresso jack e poi con un altro collegamento dall'uscita utilizzerò magari un cavo di collegamento un altro jack che dal mio effetto mi porta direttamente all'amplificatore o posso collegare più effetti in sequenza non c'è problema ricordatevi che normalmente cioè che i pedalini gli effetti hanno bisogno di un'alimentazione normalmente a 9 volt comunque vi viene indicata e quindi alcuni possono essere alimentati con una pila che si può inserire all'interno del pedalino tipo gli effetti della boss e altri hanno bisogno di un alimentatore esterno cioè comunque un trasformatore che posso collegare alla corrente 220 e trasforma la corrente da 220 a 9 volt quindi ha bisogno del suo alimentatore e normalmente non viene fornito in dotazione quindi se prendete dei pedalini bisogna prendere l'alimentatore a parte allora se invece io utilizzo un bullet ok con segnale ad alta impedenza cavo jack jack ok cavo jack jack allora posso entrare direttamente nell'amplificatore è segnale corretto in un in un effetto in una catena di effetti insomma così problemi non ce ne sono entro e tutto funziona se io mi volessi collegare con questo microfono a un mixer tipo questo allora sì qua c'è un ingresso jack però qui c'è bisogno di un segnale line e allora funziona abbastanza funziona abbastanza nel senso dovrò regolare quanto basta il gain d'ingresso il segnale line più potente rispetto al segnale quindi dovrò spippolare magari un po il gain però insomma funziona dovrò cercare di regolare il volume quanto basta quindi posso entrare anche direttamente nel mixer con il mio cavo jack sarebbe preferibile se il mixer avesse un ingresso questo instrument perché è un livello di segnale differente ok connettore una cosa il livello di segnale quindi l'impedenza è un'altra ma in questo caso un collegamento di fortuna ma c'è un'altra via l'altra via è che magari io utilizzo il mio bullet ok o eventualmente il mio sm 57 58 col trasformatore di cui sopra ok quindi comunque arrivo che da questo connettore jack mono passa un segnale ad alta impedenza sia che parta da qua che sia che parte da un microfono tipo questo più il suo trasformatore ok comunque allora qui io posso passare magari su una catena di effetti ok e magari la mia intenzione non è quella di collegare all'amplificatore cosa che posso tranquillamente fare magari per mia scelta o per comodità e se alla prova e quant'altro preferisco collegarmi direttamente al mixer avrò un suono un po diverso però allora come ho detto si funziona ma c'è un modo più corretto ovvero utilizzare le di ai di ai box cos'è una di ai box questa è passiva è praticamente il contrario di questo ok questo trasforma da bassa ad alta impedenza e poi il connettore passa da canon a jack le di ai box invece convertono al contrario da alta a bassa impedenza entro con un jack ed esco con un canon e quindi esco con un segnale microfonico a bassa impedenza quindi io prendo tutto il mio microfono jack lo collego alla mia catena di effetti l'ingresso della di ai box e dall'altra parte sono l'uscita che non quindi utilizzerò un normalissimo cavo canon per collegarmi direttamente al mixer però in questo modo mi sto collegando con un segnale microfonico a balte a bassa impedenza segnale pulito più potente più preciso insomma è tutto funziona correttamente quindi questa la di ai box se non usate l'amplificatore vi collegate a un mixer sicuramente è un altro accessorio che dovrete considerare di avere con voi oppure avete una scheda audio ok un'interfaccia audio tipo questa dove volete registrare il vostro strumento e quindi vi collegate direttamente all'ingresso della della scheda le schede audio hanno normalmente tutta una serie di possibilità se vi collegate con un cavo canon è perché avete un segnale microfonico quindi state utilizzando questo tipo di microfono se invece utilizzate il bullet con il suo cavo jack potete collegarvi direttamente però dovete selezionare di solito hanno un selettore quando entrate con un jack per poter scegliere il tra un segnale di line o un segnale instrument quindi in questo caso avete un segnale instrument quindi selezionate ok il tipo di segnale instrument a quel punto tutto funziona regolerete chiaramente sempre poi il gain come livello di guadagno del segnale vi faccio vedere anche un'altra cosa le cuffie quelle più professionali insomma da studio hanno il connettore jack allora questo come vedete è un jack tipo grande perché invece il tipo piccolo è questo quello che di solito collegate al telefono allo smartphone allo smartphone le cuffiette insomma questo è un mini jack stereo che diventa con l'adattatore un cavo jack non mini jack tipo grande stereo allora qual è la differenza vedete questo è mono e questo è stereo lo riconoscete dal fatto che ci sono praticamente delle delle corone nere ok se ne vedete soltanto una di corona nera il jack è mono se ne vedete due di corone nere come in questo caso il jack è stereo perché il jack è stereo perché chiaramente le cuffie hanno un segnale sinistro destro quindi in questo caso è stereo ma se noi dobbiamo collegare insomma il nostro microfono il segnale è mono quindi occhio abbiamo bisogno di un cavo jack ok mono jack grande mono allora questi sono più o meno i casi tipici spero di non aver dimenticato niente almeno insomma nei casi più generici poi ci sono altri tipi di cavi e altri tipi di connessione però avendo a che fare insomma con armonica amplificazione dell'armonica bene o male questo è mi dimmi stavo per dimenticare allora questo cavo che vi ho detto che non va bene nel senso che da una parte ha il canon e dall'altra parte già il jack mono in realtà c'è un caso in cui avrete eventualmente bisogno di questo cavo ovvero se utilizzate il nuovo microfono della owner l'art blaster l'art blaster non viene fornito col suo cavo ha soltanto il connettore e il connettore è proprio come quello di un classico microfono da voce ok però l'art blaster tipologia bullet al connettore canon ma l'uscita ad alta impedenza occhio quindi dovrete utilizzare un semplicissimo cavo canon jack mono ok quindi il cavo la connessione che non è molto stabile qua c'è già tutto insomma cablato di modo che esca fuori il segnale mono col connettore jack e non avete bisogno di trasformatori perché il segnale parte alla fonte già ad alta impedenza questo è praticamente l'unico caso in cui potrete avere bisogno di questo tipo di cavo il vecchio microfono il blues blaster della della owner aveva bisogno di un cavo tipo questo però particolare con una saldatura differente era proprio un cavo fatto apposta però nel modello nuovo l'art blaster va benissimo dovete semplicemente dotarvi di un cavo tipo questo canon jack ok quindi più o meno i casi tipici sono questi nei commenti se avete qualche dubbio in merito appunto connessioni quant'altro in merito all'argomento di questo video sentitevi pure liberi di fare delle domande io cerco di fornirvi i chiarimenti se sarà necessario magari faremo un altro video di approfondimento però questi sono i casi tipici ci esistono i microfoni che hanno già il cavo per esempio il dx 520 della sure ha già il suo cavo jack collegato al microfono però il segnale è ad alta impedenza diciamo medio alta impedenza quindi non avete bisogno di lo dovete considerare come un caso generico quindi c'è già il cavo ma uscita jack ad alta impedenza bene o male questi sono i casi bisogna fare attenzione alla questione delle impedenze non c'è soltanto il connettore il connettore il connettore ma quello che passa dentro è un segnale che può avere diversi livelli ok di base microfono da voce bassa impedenza che non microfono bullet alta impedenza jack e tutte le volte che mi devo collegare a qualcosa devo fare attenzione a questi aspetti perché poi il problema se non faccio attenzione mi i problemi si sommano sono magari non funziona avrò dei problemi insomma devo cercare di evitare proprio alla fonte seguire proprio un percorso alla fine basta semplicemente guardare la scheda tecnica in ogni caso oppure domandare a degli esperti se si tratta alta bassa impedenza è il tipo di insomma collegamento che che è necessario ma i casi tipici ve li ho esposti alla fine avrete bisogno di collegarvi o un amplificatore o mixer eventualmente una scheda audio una volta che avete capito come funzionano i livelli e tipi di segnali e come eventualmente trasformare da alta bassa e da bassa ad alta insomma il gioco è fatto se avete comunque qualche dubbio sentitevi liberi di commentare sotto occhio ai collegamenti e alle impedenze bene questo video di oggi spero che ti sia piaciuto che sia utile se così è stato magari lascia il tuo like se non sei ancora iscritto al canale iscriviti ora clicca anche sulla campanellina per ricevere aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video ti ricordo che puoi seguire easy arpa anche su facebook instagram ti puoi iscrivere al canale telegram di easy arp ti lascio qua sopra due link uno quello del easy art store il mio negozietto di magliette accessori tutti con design a tema armonica design originali che ho realizzato io stesso e l'altro quello dell'amazon shop di easy arp una mia selezione la mia vetrina di prodotti spediti e venduti da amazon vai a guardare organizzato per categorie quindi troverei armoniche divise per tonalità sezione amplificazione sezione microfoni sezione cavi e collegamenti vari insomma vai a curiosare magari trovi esattamente quello che stai cercando ma soprattutto se non l'hai già fatto ti invito a visitare easy arp 2.0 la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyarpo.it dove trovi tutti i miei corsi online di armonica un percorso didattico completo e guidato step by step alla scoperta di tutti i segreti dell'armonica blues e ricordate che imparare solo nella armonica è facile con easy arp take it easy take it easy arp ciao saluto a tutti